Ciao mister, c'è Massimo Canca di Carta Camera, l'avevo già detto, non ci sono partite facili e questa è la dimostrazione, però abbiamo visto una pro un po' sotto ritmo, tanti errori anche negli appoggi, pochi tir in porta. Abbiamo sbagliato più delle volte tecnicamente, sì l'ho detto prima, tecnicamente abbiamo sbagliato più di altre volte, abbiamo sulle seconde palle, loro arrivavano prima, specialmente per il mio tempo, c'è stato un gioco molto molto spezzettato, molto lento, anche perché loro avevano questo atteggiamento qui e il nostro errore non è stato quello di cercare, con qualche atteggiamento, con qualche magari presa di posizione anche nell'atteggiamento del corpo per cercare di invertire questo trend, invece noi siamo una squadra che ha una sua personalità e queste cose possiamo cercare di migliorarle, ecco, perché nel possesso è venuta qui e ho chiaro intento di fare la sua partita, per carità. Però noi quando non riusciamo ad arrivare attraverso il gioco dobbiamo arrivare attraverso magari un po' più di aggressività, magari no? Che ci porta magari a sbloccare certe situazioni che non sono facili, perché non è la prima volta che vediamo questo tipo di partita. Può starci che ci sia più bisogno che chi è rientrato dagli infortuni trovi la condizione, i nuovi allo stesso si ambientino, abbiano bisogno di tempo anche per ambientarsi nei tuoi schemi, no? Ma questa non è stata una partita, diciamo, sugli schemi o su quant'altro, noi abbiamo giocato sempre la stessa maniera, abbiamo capito che avevamo più di giocatore che o aveva fatto poco o non aveva giocato, quindi mi riferisco a Cristini, mi riferisco a Gatto, mi riferisco a Vitali che non avevano giocato, quindi non erano, non eravamo in debito d'ossigeno, ma altri che volutamente magari avevano fatto mezz'ora domenica scorsa, quindi da quel lato lì avevamo, secondo me, anche, come dire, negli uomini in campo gestito bene queste energie, no? Poi però le partite prendono una piega e noi dobbiamo essere bravi quando troveremo questo tipo di partite qui ad accelerare i ritmi che magari le altre squadre ci portano, ecco, questo.